Sono 20 i comuni della provincia di Segna che devono rinnovare il Consiglio Comunale. Il centro più importante è Frosolone con l'uscente Felice Ianiro che guida una lista civica considerata vicina al centro-destra. Sfiderà Pasquale Rocco Delisio, già assessore provinciale, a capo di una civica vicina invece al perimetro di centro-sinistra. Il sindaco di Fornelli, Giovanni Tedeschi, si avvia ad espletare il quarto mandato. Sua l'unica lista, i nastri di partenza. Il vero avversario che avrà è il quorum. Anche Peppino Di Pilla, a Sant'Agapito, chiede ai cittadini la possibilità di svolgere il quarto mandato. Nel suo caso però dovrà vedersela con Liberato Matticoli, già responsabile dei giovani di Forza Italia. Interessante la sfida di Castelpetroso, con il sindaco uscente Michela Tamburri contrapposta al suo assessore, ancora in carica, Angela Farro. Terzo incomodo, Gianmarco De Filippis, ha la prima esperienza amministrativa. A Macchia di Sernia, Giovanni Martino cerca di conservare la fascia tricolore. Contro di lui, la dottoressa Antonietta Renzi, ginecologa, ha la prima candidatura in una competizione amministrativa. A Cerro al Volturno, Remo Di Anni si appresta a concludere il suo secondo mandato. Per ottenere la terza elezione dovrà superare Gabriel Paolone al suo fianco per oltre un mandato. La terza lista è capeggiata dall'ex tecnico comunale Mirello Forte, per nove anni collaboratore dell'amministrazione di Ianni. D'esta interesse anche la sfida di Macchia Godena, con l'uscente Felice Ciccone, al crepuscolo del suo secondo mandato, affiancato in lista dall'ex sindaco Corrado Del Buono. Contro Ciccone si presenterà Donato Terriaca, imprenditore già candidato alla regione con i popolari. Per lui nel curriculum già diverse esperienze amministrative. La terza lista sarà capeggiata da Lina Bianchi, maestra in pensione, che si cimenta con le comunali per la prima volta. Gli altri comuni al voto sono Castel del Giudice, quella di Lino Gentile, l'unica candidatura. Carovilli, Castel del Rino, il centro più piccolo chiamato alle urne con meno di 100 abitanti. Filignano, Longano, Miranda, con l'uscente Marco Ferrante, che non avrà rivali. Pesco Pennataro, sulla scena politica si riaffaccia Pompilio Sciulli, ed ancora Pietrabbondante. Pozzilli, dove in lista con Del Corpo risulta anche il consigliere regionale Stefania Passarelli. Rio Nero Sannitico, Rocchetta, Scapoli e Vasto Girardi. Quella di Antonio Cea è l'unica lista. Grazie.